Firenze e Firenze Spostandoci in A1 in direzione Bologna code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Varico Baccheraia In direzione Roma rallentamenti tra Barberino di Mugello e Calenzano e Sesto Fiorentino code per lavori in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!